Musica Ciao, sono Nora che vado a salti in banco! Salto in banco è un progetto educativo prescolastico rivolto ai bimbi dai 3 ai 5 anni. Nasce all'interno del progetto Circo Pificio che da sempre ha voluto investire nella cura dell'infanzia con le attività di circo ludico pedagogico per la promozione dello sviluppo del bambino sia da un punto di vista motorio che da un punto di vista emozionale e relazionale. Il nostro progetto educativo decide di far tornare i bimbi al corpo. Sappiamo che per loro lo sviluppo, soprattutto nella prima infanzia, parte proprio da questo piano, che è il piano motorio, e all'interno del nostro progetto focalizzato all'interno della fassa 3-5 anni abbiamo deciso di integrare, da un lato, lo sviluppo di quelli che sono i prerequisiti della scuola primaria, cioè tutte quelle micro abilità che mi consentono poi di affrontare gli apprendimenti più strutturati della seconda fase dello sviluppo scolastico, e a questo affianchiamo lo sviluppo del corpo attraverso proprio questo piano motorio. Prioritario, oltre a questo piano, è lo sviluppo emozionale. Crediamo che la scuola debba produrre benessere. Nel momento in cui apprendiamo, insieme ai contenuti dell'apprendimento, registriamo anche le emozioni con le quali lo abbiamo affrontato. E una volta che andiamo a recuperare quei contenuti, recuperiamo entrambe le informazioni. Dunque, per far sì che i bambini abbiano voglia di apprendere, stiano bene nell'apprendimento, dobbiamo far sì che leghino quella tipologia di emozioni che li porti alla ricerca del bello, e della felicità. Con il tico me! Avere degli spazi ampi, come quelli del circopificio, danno la possibilità ai bambini di poter giocare in libertà. Abbiamo la possibilità di poterli fare appendere in una sala aerea, dove tutti i giorni sperimentano la loro forza sul loro peso. Abbiamo uno spazio, come la nostra sala acrobatica, dove poter fare dei percorsi di motricità, e quindi ogni giorno sviluppare delle competenze in quest'ambito. E infine, abbiamo uno spazio all'aperto, una terra, dove i bimbi possono scorazzare, sia al sole, ma anche con la pioggia, dove poter fare dei laboratori di educazione ambientale, e quindi di godersi degli spazi all'aperto. Mi arrabbio come una scimietta! Wow! Salto come una ranocchia! Triscio come un serpente! Mi muovo come un cagnolino! Qui a Salto in Banco i bambini sono liberi di esprimere se stessi in assoluta libertà e creatività. Oltre alle attività laboratoriali, utilizziamo il circo come discipline sulle quali incentriamo le nostre attività. Utilizziamo l'acrobatica aerea, quindi tessuti, trapezio, per fare un lavoro in sospensione, e lasciare i bambini liberi di volare. Facciamo l'acrobatica a terra, fondamenti di ginnastica, dalla capovolta, dai piccoli salti, salti a due piedi. Utilizziamo la giocoleria, la manipolazione dei piccoli oggetti, fazzoletti, palline. E facciamo equilibrio. Utilizziamo alcuni attrezzi per andare a sviluppare l'equilibrio. Qui al Circo Pificio quello che ci poniamo come obiettivo è sicuramente creare delle fondamenta perché il bambino possa un domani crescere consapevole nella libertà appunto di esprimere se stesso. Da padre vorrei veramente il meglio per mia figlia. quale miglior spazio, luogo dove poter far sì che mia figlia possa stare bene. Perché abbiamo uno spazio grande, accogliente, inclusivo, dove i bimbi hanno la possibilità di sperimentare, sperimentare tutto quello che è il loro valore aggiunto. Quindi nei primi momenti, nei primi anni di vita, è la motricità, è il poter correre, il poter saltare senza limiti, il poter rotolare, il poter appendersi su un oggetto in sicurezza. Contattaci! Vi ha invitato a San Piervancio! Grazie!